Meglio uscire da questo postaccio, non ce la faccio già più. Speravo in un posto migliore. Non è che avessi molta altra scelta, sapete? E la madonna, che luce. Beh, che dire. Questo posto fa veramente cagare, wow. Fantastico, abbiamo sbloccato anche gli zaini appena usciti. Sono molto alterata di questa cosa. Quante missioni ancora ci sono da sbloccare qui. Ho capito che sto sbloccando tutte le missioni disponibili fino ad ora, però cacchio, sono troppe. Oh, finalmente. Beh, che dire. Il mio quartiere ha visto tempi migliori. Ehi, c'è un cadavere lì, sembra ancora abbastanza fresco. Oh, mi dispiace che lei è morta, signora zombie. Credo che si chiamasse Asuka. Credo che fosse un ufficiale militare, ma non saprei dire di che grado. Oh, beh, tanto a lei questa roba non gli serve più. Grazie, signora. Vediamo come mi sta questo vestito. Direi che ho bisogno di un paio di scarpe, però mi sta proprio bene. Oh, c'è una scatola rosa qui. Credo che una cosplayer non sia riuscita ad entrare. Vediamo un po'. Oh, caruccetto questo. Oh, c'è anche un prompt. Fantastico. Ah, sì, me lo ricordo questo gioco. Lollipop Chainsaw. Era un vecchio gioco degli anni 2000. Meglio prendere tutto quello che è disponibile in questa zona, non si sa mai. E questa? Bene. Oh, è una pistola di Fallout New Vegas. Me la ricordo. Mio marito ci giocava sempre. E questo? Oh, scusami. Non volevo lanciarti via, perdonami. Ma vieni. Ah, è un fumetto sulle piscine. Fantastico. E siamo anche aumentati di livello. Meglio andare a vedere a casa se c'è qualcosa. E soprattutto è meglio cambiarsi vestito. Anche senza scarpe questo vestito è molto caruccetto. Idol Curiosity. Entra nel Vault 111. Perché dovrei rientrarci? Beh, sapevo che questo quartiere avesse dei problemi. Certo non mi aspettavo ne avesse così tanti. Wow. Ho sempre odiato i miei vicini. Ma non al tal punto da volerli morti. Aspetta, c'è qualcuno lì. Ma... Codsward, sei tu? Codsward. E tu sei davvero tu? Codsward, sei ancora qui. Quindi potrebbero essere sopravvissute altre persone. Beh, certo che sono ancora qui. Non avrà pensato che qualche radiazione potesse fermare l'orgoglio della General Atomics Internet. Smetti di farti pubblicità da solo, Codsward. Meglio che suo marito non la veda in questo stato. A proposito, dove è il signore? Wow, Codsward, tu hai proprio del tatto. L'hanno ucciso. L'hanno... L'hanno ucciso. Signora, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io... io ritengo che ne serva una distrazione. Una distrazione, wow. Molto... molto riduttiva la cosa. Codsward, tu hai proprio del tatto. Lo vedresti in braccio, no? L'hanno preso. Hai sparito, cazzo. Qualcuno l'ho appreso. Hanno rapito mio figlio. Eh, vedi tu. Beh, sono un po' raffreddolita da un po' di tempo. Quanto hai detto, scusami? Vabbè, certo, puntigliamo anche la cosa, no? Ah, beh. Un giorno più, un giorno meno. Per la cena di due secoli. Forse potrei prepararle uno spuntino. Deve essere terribilmente affamata. Guarda, l'ultima cosa a cui pensavo è proprio mangiare. Tu stai bene? Codsward, ti comporti... In modo un po' strano. Che c'è? Io... Io... Oh, signora. È stato terribile. Due secoli senza nessuno con cui parlare. Non passava qualcuno da parlarti ogni tanto. Ho trascorso i primi dieci anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti, ma nulla salva il legno... Eh, lo so. Avevo detto a Nate di fare la mochetta. Nulla. Eh, lo so, non è colpa tua. La futilità di spolverare una casa crollata. E la macchina... Come si può lucidare la macchina? Eh, lo so. Gli avevo detto a Nate di non comprarla, quella macchina. Resta con me, per favore. Non sviare. Resta con me, amico. Concentrati. Devo di non sapere nulla, signora. Quando sono cadute le bombe, siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia... Beh, forse sarebbe stato meglio morire con le bombe piuttosto che far rapire mio figlio. Credo che il signore volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi... Beh... E' accaduto tutto. Oh, fantastico. Grazie, Codsward. Grazie, Codsward. Prego. Ora, basta deprima. Bravo. La depressione non porta a nulla. ...diamo a giocare inizio nel quartiere? Potremmo trovare il signore e il piccolo Sean. Ah, beh, certo. Non l'hai trovato per 200 anni? Lo troverai adesso. D'accordo. Fammi strada. D'accordo. Fammi strada. Lieto di servirla, signora. Lieto che tu sia lieto. Oh, fantastico. Anche le mosche ora sono cresciute. Questa era la casa di quei vicini antipatici, tra l'altro. Li ho sempre detestati. Lasciavano le decorazioni di Halloween anche d'estate. Maledette mosche. Ti aiuto io, Codsward. Signora, la sua famiglia non è qui. Eh. Chi l'avrebbe mai detto, Codsward? Eh, e te l'avevo detto. Grazie comunque del tentativo. Grazie per il tentativo, Codsward. Non può arrendersi, signora. Che mi dice della città? Concord è qui vicino e... Beh, lì la gente mi ha sparato addosso poche volte. Hai mai... Sei mai andato a fare spesa lì? C'è ancora qualcuno a Concord? C'è ancora qualcuno a Concord? Sì, anche se sono un po' malmessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticello a sud. Fuori dal quartiere e superare la stazione di Red Rocket. Oh, benissimo. Andrò a fare benzina allora. Ah no, la macchina non c'è più. Ah, quanti ricordi di questo quartiere. Mi ricordo che su quell'albero una volta c'era una grande casa sull'albero. O forse era un'altra dimensione. Ma chi lo sa. Mi ricordo anche che sopra questo garage c'era un'altra casa. Ma chissà, forse sto confondendo le dimensioni. Meglio attivare l'officina. Ed è l'ora di ripulire questo posto. Con un solo tocco di bacchetta. Ricicla? Assolutamente. Ora è tutto molto più pulito. Per chi non l'avesse capito, con una mod cancellando solo quel cestino, ho ripulito la gran maggior parte di Sanctuary. Rimangono solo le cose inutili. La mia vecchia casa. Santo cielo. Ah, il numero di grognacchi il barbaro è ancora qui. Fantastico. I colpi critici con attacchi a mani nudi e misca infliggono permanentemente il 5% di danni. Fantastico. Meno male che mio marito li collezionava. Oh, niente più New Cacola. Bene. Certo, mi hanno rubato il bere, però mi hanno lasciato grognacchi il barbaro. E mi hanno anche rubato il diploma. Che pezzi di merda. Oh, Sean. Arrivo, tesoro. Bimbo mio. Oh, il suo libro. Sei special. Cosa potrebbe aumentarmi? Facciamo la forza? Che gentili. Mi hanno anche lasciato le spade. Forse hanno capito che avevano un qualche tipo di valore affettivo. Oh, Nate. La nostra collezione di spade. Abbiamo speso molti soldi per comprarla. Guarda com'è messa male ora. Ora che è arrugginita, mi avresti sgridata perché non me ne sono presa cura. Ora non puoi più farlo, sei morto. Chissà, forse posso sistemarla. Mi mancano i componenti. Eh, lo so. Appena avrò i materiali vi sistemerò. Vi farò risplendere come prima. Per fortuna che con l'ufficiale di prima aveva una spada ancora in ottime condizioni. Ed è pure fiammeggiante. Fantastico. Direi che questo cappello con questo caldo magari anche no. Codsward, io vado. Ci vediamo dopo. Una cosa che mi è sempre piaciuta di questo quartiere era il ponte. Meno male che è ancora intero. Eh, era sempre pericolante però passare qua con la macchina. E se si fosse sfondato? Ehi, che succede qui? Un vampiro? Beh, se Twilight mi ha insegnato qualcosa è che i vampiri hanno paura. Del sole. Maledetto. Ma che diavolo sta succedendo in questo mondo? Vampiri, scarafaggi giganti. Vampiri con crema solare. Wow. Certo che questo mondo è proprio strano. Ah, signor Jefferson. Sicuramente sui tempi le cose andavano meglio. E quella cos'è? Una spada? Un altro prompt per un cosplay? Caruccia. Per essere un prompt comunque è fatta veramente bene. Allora è meglio andare verso Red Rocket. Facevamo sempre benzina qui. C'è un cagnolino. Ehi, ciao. Ehi, bello. Che ci fai qua fuori tutto da solo? Sei un aschi. Hai perso il tuo padrone? Hai perso il tuo padrone, bello. Ah, salve signora. Bow. Ok, allora vieni con me. Bene, abbiamo un nuovo amico ora. Cosa fa la crema solare? Chi lo sa? Che succede, bello? Hai visto qualcosa? Che c'è? Conosci qualche trucco? Ehi, bello. Conosci qualche trucco? Certo. So sedermi e mettermi in piedi. Forse puoi essermi utile. Vieni con me, cagnolino. Ti troverò un nome, tra l'altro. Cos'è questo rumore? Ah, dei toponi giganti. Fantastico. Venite qua, maledetti. Venite. Aia, che dolore. Maledetti toponi ratti giganti. Oh, che diavolo. Forse era meglio se me ne rimanevo sottoterra. Sempre detto che la benzina qui costava troppo. Ah, l'inflazione. Beh, meglio dare una sistemata anche a questo posto, allora. Ecco fatto. Tutto bello, pulito e sistemato. Vieni con me, bello. Ti faccio prendere una cosa. Codsward, guarda, mi sono fatto un nuovo amico. Finalmente ha senso avere una ciotola per il cane in casa. Deve pur esserci qualcuno che potrà aiutarla, Concord. Eh, lo so, hai ragione, adesso ci vado. Tra l'altro, se non ricordo male, uno dei nostri vicini aveva un bunker nascosto. Eccolo qua. Il bunker segreto del signor Ericsson. Pensava che nessuno di noi lo sapesse. E invece? Vediamo se posso aprire almeno questa cassaforte. I signori Johnson non si arrabbieranno, no? Piccola nota off topic di questo video. Vedere Dogmeat, però fatto ad Aski, è talmente strano sapendo che lui è un altro tipo di cane. Mi fa strano, nonostante so che l'ho scaricata io questa mod. Comunque, tornando a noi. C'era anche una missione che mi chiedeva di rientrare qui nel vault, quindi... Vieni con me, bello. Forza? Ti faccio vedere dove è rimasto mio marito. Probabilmente gli saresti piaciuto. Cane? Cane, vieni qui. Cane? Ma come fai a essere già là sotto? Sei magico tu, allora. Eccoci qua. Cerca per l'oggetto di ricordo. Ok. Vieni qui, bello. Forza. Vieni. Ti va di cercare qualcosa? Ehi, bello. Ti va di trovare qualcosa per me? Certo. Che cosa cerchi? Cerca qualcosa di bello. Vedi se c'è qualcosa di utile nei paraggi, bello. Grazie. Cerco subito, padrona. Come non hai trovato niente? Scusami, eh. Vieni qua. Vedi se c'è qualcosa di utile nei paraggi, bello. Oh, finalmente hai trovato qualcosa. Dai. Prendilo, forza. Certo. Oh, bravo cagnolone. Anche le celle. Oh, questo cane è stato bravissimo. Oh, sono contenta di averti preso. Bravo cagnolino. Comunque, dobbiamo cercare un oggetto qua dentro. Che cosa stiamo cercando? An odd device. Sì. Hmm. Non so cosa sia. Però, sembra di valore. Leggi la nota. Abbiamo trovato qualcosa di interessante ieri? Beh, in realtà abbiamo riscoperto qualcosa. È quasi passato un mese da quando il Volt 111 è stato sigillato. Ma vista tutta la confusione e il panico generale all'inizio, molte cose sono state messe in posti sbagliati e dimenticati per le prime settimane. Come questo piccolo oggetto, è una versione miniaturizzata di un piccolo... di un potente generatore. È dal quartiere generale della Voltec. O per meglio dire, dal loro laboratorio di ricerca a Cambridge. Una specie di device per la protezione personale, per la nostra sicurezza. Probabilmente. Ma mi hanno detto che non funziona. Quindi vedi se i tuoi ingegneri sanno come farlo funzionare o... come vuoi. Paul. Beh. Grazie Paul. Probabilmente allora andrò a Cambridge. Già, questo piccolo oggetto sembra davvero uno di quei grandi generatori del Volt. Come dice la nota. Dopo averlo esaminato un po', sembra che non faccia nulla. Proprio nulla. Esattamente come dice la nota. Beh, il prossimo passo è prendere analizzatori ed elettronica. L'idea sarebbe capire come funziona questo oggetto. Magari bisogna solo di qualche pezzo di ricambio. Il posto più vicino è Concord. Magari c'hanno un negozio di elettronica. Vieni, bello. Ti faccio vedere un altro posto segreto dove andavo col mio ex marito. È quasi il tramonto. Vieni, ti mostro dov'è il posto. Si andava qui sulla sinistra. Ehi, dove stai andando? Non correre. Non sai neanche dov'è. Ecco. Ci mettevamo proprio su questo posto. Proprio dove c'è questa piccola struttura. Ci mettevamo qui e guardavamo tutta quanta Sanctuary. Bei tempi che erano quelli. Ma poi... Cos'è questo posto? Chissà, magari qualcuno che veniva a controllare queste zone. Ehi, guarda, c'è un cadavere. Magari era lui. Jamie Gazzen. Con una siringa puntata direttamente sul pipolo. Probabilmente i suoi vestiti staranno meglio a me che a lui. A lui non servono di certo. Mmm, questo spolverino ha un che di familiare. Già, proprio qualcosa di familiare. E anche di un filo buggato. Che spero. M Grazie a tutti.